ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come milly carlucci costretta dipenderà da lui ecco quale sarà il futuro di ballando con le stelle tra le certezze del sabato sera di rai 1 c'è anche il ritorno in tv il prossimo autunno dell'amato show di ballando con le stelle il programma cult di milly carlucci in cui un gruppo di personaggi famosi si mette alla prova nel ballo di coppia con l'aiuto di maestri e ballerini professionisti dopo il successo ottenuto con le passare edizioni milly è pronta a tornare in tv con ballando con le stelle e a sorprendere ancora una volta il pubblico con nuove storie nuove coppie a determinare il successo del programma del sabato sera di rai 1 in questi anni non è stato solo il cast che si rinnova di anno in anno ma anche la giuria che con i suoi componenti dal carattere forte ha spesso dato del filo da torcere a concorrenti e professionisti al momento la carlucci è al lavoro per delineare il cast e la giuria della nuova edizione di ballando ma in un'intervista rilasciata davide maggio ha spiegato che il potere non è nelle sue mani bensì in quelle di qualcuno di più potente vediamo di chi si tratta milly carlucci al lavoro per la nuova edizione di ballando con le stelle nonostante il caldo e la stagione estiva al suo culmine milly carlucci non ha intenzione di fermarsi e sta lavorando sodo per comporre la squadra della prossima edizione di ballando con le stelle lo show che mette alla prova personaggi dello spettacolo più o meno portati per il ballo milly ha raccontato che in questo momento la sua priorità è il cast e che fino ad oggi grandi professionisti della televisione le hanno detto di sì mentre per quanto riguarda la giuria se ne parlerà a settembre quando il cast sarà chiuso per il momento quindi non c'è alcuna certezza né alcuna conferma al contrario di quanto aveva dichiarato selvaggia lucarelli nel corso dell'intervista rilasciata davide maggio milly ha spiegato di essere concentrata sullo scegliere dei grandi nomi che possano sorprendere il pubblico nella prossima edizione ma anche aggiunto che non tutto dipende da lei colui che infatti detiene tutto il potere è il budget da quello dipenderà il cast e le scelte che verranno prese in termini di concorrenti il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno che adesso non è ancora stato deciso stiamo avendo tantissimi contatti tante persone straordinarie ci hanno detto di sì però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone grazie a tutti coloro che hanno guardato il video premi il pulsante mi piace commenta per ricevere le ultime notizie supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale